La musica per me è qualcosa che mi aiuta nella vita, mi ha aiutato nella crescita, è qualcosa che mi cambia la giornata, un'energia che cerco di trasmettere poi al pubblico nei concerti ed è per questo appunto che penso che la musica dal vivo sia ciò che noi artisti amiamo di più, il contatto col pubblico è essenziale per la vita delle opere stesse. Penso al concerto come una sperimentazione ecco di quello che studi, approfondisco nel mio intimo e amo molto poi condividerlo con le persone e ispirare le persone del concerto che a loro volta in qualche modo ispirano me ed è per questo appunto che amo questo lavoro. Il programma di questa sera è dedicato alla musica romantica, si apre con la travolgente sonata seconda di Chopin che è una delle opere più significative del periodo romantico e poi proporrò due serie di variazioni diverse tra loro e complementari, sono le variazioni seriuse di Mendelssohn, il carattere così spirituale, sono un omaggio a Bach e a Beethoven se vogliamo che guardano già al futuro delle variazioni di Brahms e così le ho volute accostare agli studi sinfonici di Schumann, un'opera così appassionante e esuberante così come è appunto sempre il linguaggio di Schumann che concluderà appunto, gli studi sinfonici concluderanno in modo così brillante e speranzoso il programma grazie appunto alla marcia finale eroica che fa di quest'opera una proiezione ecco verso il futuro, infatti anche il nome ci dice già, era un modo per valorizzare lo strumento, le innovazioni dello strumento e in qualche modo ci ispira a noi artisti sempre per trovare qualcosa di guardare verso il futuro.